Roghi, gli altri due rapinatori, il colonnello dal ponte, il cassiere, due poliziotti, la guardia girata. Roghi spara sul primo poliziotto e l'uccida, poi spara sul dal ponte. Prima di uscire, spara sul secondo poliziotto e lo ferisce. Questa sarebbe la seconda rivoltella di Roghi. Quello che ci vuole a questo punto è un ricco caffè. Un ricco caffè ha servito a letto da una bella bambina. Sì, se avessi saputo che razza di maschilista sei, non ti avrei nemmeno guardato in faccia. No, 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 rispondo io.